Sono stati consegnati i fondi destinati dalla provincia all'Associazione ai Bambini di Betania Ollus di Tortoreto. La donazione servirà a finanziare la realizzazione del laboratorio artistico del nuovo centro di urno per minori in difficoltà che l'associazione inaugurerà nei prossimi giorni, proprio a fianco della comunità educativa La Casa di Lorenzo. I fondi destinati dalla provincia, pari a 10.750 euro, sono in parte 4.000 euro ricavi del programma di escursioni estive e per la restante parte, 6.750 euro, fondi del sociale. Un gesto che ci fa molto felici, commenta la Presidente dell'Associazione, Maria Luisa Giangiulio, in quanto questi fondi saranno destinati all'acquisto dei materiali e delle attrezzature per il laboratorio del nuovo centro di urno, una nuova struttura semiresidenziale dell'associazione che si propone quale luogo di prevenzione del disagio e punto di riferimento sia per i minori in situazioni di difficoltà che per tutti i ragazzi del territorio. Il laboratorio ospiterà anche una sala lettura, con piccola biblioteca per ragazzi e un'area ludico-ricreativa.